Comtan Bort è un nuovo corso di lingua tedesca che si distingue per la sua metodologia altamente inclusiva. L'approccio multisensoriale e l'apprendimento partecipativo permettono agli studenti di iniziare a comunicare in tedesco sin dalle prime lezioni. Il metodo pone un forte accento sull'apprendimento ludico e sull'intelligenza emotiva, con attività pensate per creare un ambiente armonioso ed empatico in classe. Particolare attenzione è dedicata alla fonetica, alla pronuncia e alle strategie per favorire l'apprendimento autonomo. Il corso include anche percorsi di educazione civica e analisi degli obiettivi dell'Agenda 2030, insieme a focus sulle competenze globali, sulle soft skills e sulle competenze non cognitive attraverso stimolanti compiti di realtà. Ampio spazio è dato alla lingua viva, con numerosi video autentici, dialoghi di situazioni veritiere, video sulla cultura e la civiltà tedesca e mini dialoghi nelle funzioni comunicative. Completano il percorso didattico le sezioni di preparazione all'esame di Stato e alle certificazioni FIT in Deutsch. A corredo del corso, lo studente troverà un volume triennale di grammatica inclusivo, con brevi spiegazioni semplificate ed esercizi. La versione digitale del testo presenta numerosi esercizi interattivi, audio, video e verifiche grammaticali. Inoltre, il libro liquido è conforme alle indicazioni sull'accessibilità previste per il 2025. Comten Board è disponibile nella configurazione in due volumi, volume A e volume B. Comten Board, il nuovo corso di lingua tedesca per la scuola secondaria di primo grado. Comtenüdio Comenari